Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per provare il nuovo aggiornamento che come ho detto nei Gigi News di questa mattina sarebbe uscito proprio in mattinata Ci sono stati dei colpi di scena, anche se però devo dirvi la verità, non è che sia stato l'aggiornamento più grosso della storia, ma abbiamo appunto delle bombe veramente assurde di cui dobbiamo parlare Prima di continuare il video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY, tutto attaccato nei costi oggetti di Fortnite e mi raccomando ragazzola è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGY, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo Grazie proprio di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'este fatto per non perdervi tutti i prossimi episodi, tutti i prossimi video Lasciate un bel mi piace per supportare questo qui di video, adesso ci andiamo a startare il solito server privato che faccio ogni qualvolta esce appunto un aggiornamento per andare a provare le novità Perché comunque c'è una nuova arma che voglio andare a provare effettivamente con mano Allora me ne vado verso Bastione, abbiamo già parlato nel view di questa mattina della situazione del bioma, del ghiaccio che si sta sciogliendo Però anche con l'aggiornamento di oggi ha resistito Vi ricordo anche che praticamente tra una settimana Epic Games andrà in vacanza, tornerà praticamente tra la terza e l'ultima settimana di luglio Quindi per un bel po' di giorni non avremo aggiornamenti di fatto Però nelle prossime settimane dovrebbero arrivare sia novità che ovviamente iniziare con i vari eventi estivi Quindi missioni, cose che si possono sbloccare, cambiamenti della mappa Con l'aggiornamento di oggi in poche parole ragazzi hanno preparato, hanno schedulato tutti questi nuovi aggiornamenti che arriveranno nelle prossime settimane Che in realtà, scusate, non sono dei veri e propri aggiornamenti, sono dei content update Che come vi spiego ogni volta i content update sono semplicemente dei cambiamenti che avvengono in game senza bisogno di aggiornare Allora, prima che mi dimentico di dirvelo, hanno tolto il barret Hanno tolto il barret, non ci sarà più Hanno aggiunto appunto questa sorta di nuovo cecchino che sembra un vero e proprio caccia per chi si ricorda il fucile da caccia Solo che ha 5 colpi e funziona in maniera un po' diversa Ma adesso io spero di riuscire a trovarlo e così ve lo faccio vedere proprio nella pratica Così almeno lo proviamo effettivamente Comunque appunto questo qui è il nuovo fucile Queste qui sono le nuove, tra virgolette, slap Non so come le chiameremo, le splescine di slap Oh, eccolo tra l'altro, eccolo qui Il fucile a ripetizioni esplosivo Che però di esplosivo Ah, è il colpo di esplosivo Ok E adesso dobbiamo sperare che i boss spawnino qui per provarlo Perché io mo' so curioso di provarlo contro un boss, contro un qualcuno Comunque se non spawnano qua ce lo andiamo a cercare Leggiamoci subito un attimino i danni Allora, 76 di danni in body Cadenza di tiro 0,95, caritore abbiamo visto 5 E tempo di ricarica 4,75 Non sembra per niente male ragazzi Non sembra per niente male Tra l'altro, tra poco andremo a vedere anche tra i nuovi perk Perché ce ne sono alcuni molto interessanti Ma dopo le andiamo a vedere Comunque sì, arriveranno anche queste splescine di slap Ci hanno abbandonato con questa stagione le cura bomba Ma appunto verranno sostituite da queste bottigline qua Che staremo un attimino a capire come funzionano Perché comunque per ora non sono state ancora aggiunte O comunque per lo meno per adesso non ci sono ancora in game Staremo a vedere se magari le aggiungeranno in settimana Se le aggiungeranno settimana prossima Non ne ho idea Ma arriveranno comunque in queste settimane Queste comunque sono tutte le statistiche invece di questo fucile a ripetizione esplosivo E non so se ci avete fatto caso Ma c'è anche la rarità mitica Che dobbiamo ancora capire un attimino come si ottiene Anche per quello voglio provare un attimino ad aprire i bunker E vedere la situazione dell'arma Perché comunque regà quando escono nei file di gioco Le statistiche dell'arma Anche magari nella versione mitica Non è detto che poi di fatto lo andremo a vedere in game È semplicemente Epic che aggiunge nei file di gioco La possibilità di avere magari anche l'arma mitica Ma poi bisogna vedere se nel loot lo mette a disposizione Magari in creativa ci sarà In battaglia reale no In altre modalità magari sì In altre no Insomma lì poi dipende un attimino da che intenzioni ha Epic Perché appunto magari la versione mitica Soltanto in creativa si può utilizzare E poi magari ci faremo anche un video Però adesso cerchiamo di capire Se effettivamente si può trovare nei bunker O in queste situazioni qui Ora nella schermata che vi ho fatto vedere Sicuramente avrete notato che c'era lo spas Perché sì ragazzi C'è lo spas nei file di gioco Modificato È un po' diverso ragazzi Ora vi faccio vedere anche il gameplay È un po' È un po' Cioè si vede Si vede Si vede che non è lo stesso spas di come lo conoscevamo Fa 160 di danno in headshot È la versione leggendare Quindi la versione più forte Dato che la versione mitica non c'è Ed è un po' diverso Ha 4 colpi in canna Sembra faccia più danni da lontano È una sorta di ranger Quello che abbiamo avuto nel capitolo 3 Che era fortissimo nel no build Unito un po' al vecchio spas Comunque finché non lo proveremo Non mi metterò qui a dare altri miei pareri Mi limito a dire che molto probabilmente Non sarà proprio identico A come lo conoscevamo Tra virgolette Quindi staremo a vedere Tra l'altro hanno fatto la stessa cosa che avevano fatto al tempo con lo scar Ovvero lo hanno messo anche di rarità più basse Quindi non c'è il pump del nonno Ma c'è semplicemente lo spas In più versioni Tra l'altro come vedete I guanti dell'occultamento adesso in giro si troveranno epici Gli unici mitici saranno quelli di Relic Tra l'altro erano già gli unici più forti Erano quelli un po' più forti Tra l'altro ovviamente non sono sponati qui I nostri cari amici boss Ma ce li andiamo a cercare senza alcun tipo di problema Non l'ho trovato in altre rarità Lo volevo trovare anche in altre rarità Questo fucile a ripetizione esplosivo Ma ce ne faremo una ragione Comunque mentre andiamo dai boss Per provare comunque il gameplay di questa nuova Arma continuiamo con le news Perché questa sarà la skin della crew di luglio Molto carina Conferma il fatto che il lupo di cui abbiamo parlato questa mattina E che è semplicemente questo NPC qui Ma adesso ve lo faccio vedere Sarà una crew un po' particolare Si potrà ottenere soltanto rinnovando la crew Praticamente per 5 mesi Adesso staremo a vedere quando uscirà quella di luglio Ne sapremo sicuramente di più Vediamo se lo troviamo Un attimino l'NPC Sta qua Sta sopra Lo sapevo che stava sopra Mannaggia la miseria Fatti vedere Fatti vedere non fare Il Il Come si chiama Il timido Olpez Dovrebbe essere questo qui comunque Che si otterrà facendo appunto vari abbonamenti Nel corso dei mesi E dei mesi Molto carina comunque appunto la crew di luglio E questi invece sono dei nuovi perk Non ho capito se alcuni sono già in game Un paio dovrebbero già esserci Altri ancora no Quindi poi li vedremo nelle prossime settimane Ma alcuni sono davvero interessanti Però adesso facciamo un attimo prima I danni al boss Proviamo un attimo l'arma E poi dopo andiamo a parlare Del Dove so Regà Ma dove sono E poi andiamo a parlare Ecco lì Dopo andiamo a parlare dei perk Allora vediamo un po' 209 E fermi tutti Solo 76 Però in headshot fa un sacco Ah regà No è sbroccata Cioè prende lo puoi usare come pump Cioè nella stagione 3 con ranger si parlava di pompa cecchino Qui si parla di cecchino pompa praticamente Vabbè però fa solo 38 quando itti così eh Non è tantissimo Però Regà In headshot 209 vuol dire che one shotta eh In headshot 209 vuol dire che in build one shotta In no build no Ma ti mette letteralmente in mutande quindi occhio 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 Allora intanto avriamo il bunker Allora stavamo parlando dei perk Scusatemi se guardo di qua ma ovviamente me li devo leggere Perché se no non mi ricordo Ah ok Il perk del fango Ovviamente quando vi nasconderete nei bush Nell'erba alta o comunque in queste situazioni qui dove vi nascondete Avrete l'effetto del fango Quindi potrete scivolare più velocemente Sostanzialmente Però aspettate intanto proviamo ad aprire ste chest qui Vediamo un attimo cosa succede C'è il frittella mitico quindi non cambia nulla Da un punto di vista di bunker Quindi mi viene da pensare ragazzi che sì La versione mitica probabilmente la vedremo soltanto in creativa Poi ribadisco alcune cose le andremo a vedere meglio nei prossimi video Però per adesso è così Anche qua Uh quella versione leggendaria Aspettate leggiamo un attimo la versione Perché questa è vera la versione epica La versione epica fa 209 Questa fa 80 Quindi non so quanto possa fare Ma a questo punto andiamoci a cercare altri boss Andiamo a far fuori anche quelli Per continuare a provare per bene l'arma Qua c'è una macchina qualcosa Vabbè non la vedo quindi per adesso corriamo E basta Comunque Quest'altro perk che invece ti dà semplicemente i colpi pesanti Quindi i colpi da cecchino sostanzialmente Quindi quello che per adesso c'è il perk soltanto Dei colpi dell'assalto D'ora in poi ci sarà anche appunto per quello dei cecchini Tra l'altro adesso che hanno tolto il barrette hanno messo questo Ma vabbè povero barrette Lo splash party semplicemente ti daranno delle bottigliette Quelle lì che devono uscire Quindi probabilmente questo perk è uno di quelli che ancora non c'è in game Ma arriverà nelle prossime settimane insieme alle bottigliette Questo regà è devastante Cioè i danni in headshot faranno ancora più danno Per quanto riguarda le armi che hanno appunto le munizioni da cecchino Quindi queste munizioni pesanti E faranno ancora più danno in headshot Quindi possibilmente con questo perk si one shotterà anche in no build Un po' come faceva banalmente il nostro caro vecchio amico Barrett Che one shottava in build e in no build Quindi no I GG total headshot se ve lo stavate chiedendo non se ne sono andati Purtroppo Ci sono ancora Il thermal mood che vuol dire sostanzialmente che nel momento in cui siete sporchi di fango Avrete la visione termica Che può essere comodo come non comodo Non ho idea io nel dubbio non lo prenderò E poi questa sorta di redeploy che non è un vero e proprio redeploy Cioè non funziona come il redeploy che abbiamo conosciuto nel corso di questo capitolo 4 No È un redeploy un po' particolare Avete presente che quando voi cadete dalle zipline Cadete dalle liane Non prendete danno Cioè tutte quelle volte che voi state volando Senza prender danno Quindi da queste situazioni dove non prendete danno Potete attivare il redeploy Quindi è come aver messo un redeploy nerfato Che funziona solo nel momento in cui voi cadendo non avreste comunque preso danno Può essere comunque comodo Non è sicuramente agli stessi livelli del redeploy classico Però bene o male Può essere utile Non lo so Non lo so Comunque staremo a vedere Detto questo Proviamolo leggendario Vediamo quanti danni fa in headshot 220 Ok quindi no Non one shot per adesso Ah aspettate però Aspettate C'ho i perk da prendere C'ho i perk da prendere E se ce n'è uno di quelli nuovi? E se ce ne dovesse essere uno di quelli nuovi? Fermi un attimo eh Provo ad usare Eh purtroppo i lingotti nel server privato Ce n'ho pochi Quindi non posso Non posso Switchare troppo E ovviamente Ovviamente non mi verrà dato Sempre se l'hanno già aggiunto eh Non è detto Vabbè comunque tecnicamente sì Almeno nella versione leggendaria Con il potere del perk Potrebbe essere in grado di one shotare Regà Sbroccato eh Cioè potete anche andare banalmente in giro con due di questi E spammare così In no build Va bene Ovviamente regà Qua stiamo parlando di bot Quindi sicuramente Stiamo parlando di avversari veri Che potevano buildare E fare cose Magari in build Non è così sbroccata come cosa Però comunque Rimane abbastanza forte eh Cioè Mi sembra comunque un'arma abbastanza forte Adesso comunque andiamo Sull'isola Ci andrei comunque Vorrei andare un attino sull'isola Per vedere anche lì la situazione com'è Non ne ho aperto la scorta Perché non credo cambi qualcosa Per quanto riguarda la scorta Regà Volevo giusto Ecco Aprire un po' i bunker Aprire un po' qua la situazione E vedere che cosa Che poi potevo aspettare a switchare Effettivamente qui c'era un botto di oro Vabbè 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 Anzi facciamo una cosa Vediamo un attimino gli ottimizzatori Quali abbiamo tutti Quali abbiamo tutti Quali abbiamo tutti No quindi ancora non sono usciti in realtà Quindi ancora non sono usciti Oppure me l'hanno giattati Ah No eccolo Ah Già te li dà disponibili tutti Quindi non li devi trovare Le armi che usano munizioni pesanti Quindi questo già c'è Questo già c'è ragazzi Ufficiale Questo già c'è E degli altri Regà Non so se mo li riconosco Così No questo Ottieni effetto schiaffoso Quando usi piante rampicanti Ok E poi questo qui Che ti dà le munizioni pesanti Anche questo qui Ti dà le munizioni pesanti Ok 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 L'unica cosa da capire ragazzi È se effettivamente Ci sia un modo per ottenerlo mitico Anche nella versione della battaglia reale Oppure magari nella versione mitica Non si può fare Appunto nella battaglia reale O nelle modalità Queste qui Comunque adesso andiamo sull'isola Proviamo a conquistare anche l'isola Così tanto per Almeno ci togliamo Ogni dubbio Andiamo a vedere per bene Tutte le novità Come avevo detto Regà Ho l'aggiornamento di oggi Niente di che Però mi piace questa cosa Che alla fine della fiera Hanno semplicemente Spalmato Le poche novità Che avevano a disposizione Per questo mese di luglio In cui stiamo ormai per entrare E quindi magari Questa settimana Abbiamo queste novità Con magari nuove missioni Poi dal 4 luglio Avremo le missioni Quelle estive Magari usciranno altre novità Tra due settimane Usciranno altre cose Quindi ci hanno comunque Lasciato programmati Tutta una serie di content update Che ci potrebbero tenere Un po' Un po' di intrattenimento Nei prossimi giorni Staremo a vedere Regà Staremo a vedere Sicuramente non stiamo parlando Di mega super content update Sicuramente lo spas Ricrea Ricreerà hype Però rimesso in game Così modificato Come abbiamo visto Non è che sia proprio il top Però è già qualcosa Quello sicuramente È già qualcosa Staremo a vedere appunto Quando e come lo metteranno Io non ricordo bene Ma mi sembra che lo scar Nel capitolo 3 Sia stato presente Per diverse stagioni In questo caso Lo spas Se lo dovesse raggiungere Già magari in questa settimana Nella prossima È praticamente come se fosse rimasto Se dovesse rimanere Fino alla fine del capitolo Una stagione e mezza Quindi poca roba Quindi staremo a vedere Comunque occhio Perché secondo me Ti fate danno anche da soli Palese Come ogni altra arma Che c'ha il danno esplosivo Questi qui di relic Regà Cioè che non sono Di relic In realtà Cioè questa qui La versione è epica Ha comunque Dovrebbe avere Le solite caratteristiche Che aveva prima Cioè regà Io ce feci il video Su questi quanti Lo dissi subito Regà guardate che La versione mitica di relic È più forte della versione mitica Che potete trovare In giro Banalmente Comunque per il resto Niente Pure qui è rimasto Tutto abbastanza uguale Quest'arma la potete trovare Nelle holo chest In versioni inferiori Ci sono anche le altre rarità Le potete trovare Un po' in giro E niente Detto questo Direi che l'arma È molto forte Molto molto forte Molto interessante Soprattutto in no build Ma anche in build Può assolutamente Dire la sua E mi raccomando Voi ditemi la vostra Nei commenti Detto questo ragazzi Mi raccomando Vi ricordo Codice creatore GGY Tutto attaccato I negozi oggetti Di fortnite È fondamentale Per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lascia un bel mi piace Ribadisco Fatemi sapere la vostra sotto Con un commento Vedremo Nei prossimi giorni Come quando usciranno Tutte le altre novità Che sono state già trovate Nei file di gioco Per noi è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo Qui sul mio canale Ciao ragazzuali